no non ci credo ci sono guarda ci sono si lo so rocker duck se abbasso solo una storia zio paperone e l'unicità contesa grossi dove sono aspetta dove sei eccolo qua sei tu rocker duck oh grazie anche a voi e ho le espertagne di aver pubblicato me e soprattutto quella pubblicità sigla paolo paoli new iscriviti al canale mettete mi piace non mi piace condividete e commentate ragazzi si signor capitano non ho sentito bene si signor capitano oh oh a a a a app a a a a a Ciao a tutti amici! Pronti per la morte di Are... No 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 no! No 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 no! Ciao a tutti amici! Io sono Chat Noir! E con lui e con noi c'è i ragazzi di Duck Days che presentiamo a tutti! Saluto Chat Noir! Ciao! Saluto Paperina e Zio Paperone! Ciao! 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 Picasso in 99 detto anche Mister Poranetto! Ciao a tutti! Zio Paperone! Ciao! E a Les Bertagni fai colazione! La 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 la! E oggi recensiremo Topolino 3413! E prima del video grazie per i 100 iscritti sul canale di Paolo Paolinov e noi saremo grati! Se non avete visto lo speciale cliccate sul canale di Paolo Paolinov per cominciare! E oggi? E oggi? Zio! E oggi? Iniziamo! Con sempre con la rivista di Quaggold! Anzi si apre qui! E' una nuova tecnica! Oh no! A Les Bertagni! Perché hai messo... Invece di DuckTaste avete messo questa pubblicità? Ehi! Qual è? Allora! Dicidi questa tutta! Grazie a Les Bertagni! Allora! Abbiamo trovato Quaggold! Ciao! Ciao! E abbiamo completato tutta la collezione delle statuette di Quiquo Qua! Nel prossimo numero... Salutiamo Picasso di 99 perché... Lo so! Nel prossimo numero si trova l'armanacco di Topolino! L'armanacco di Topolino! E non lo compriremo mai! Nel prossimo venerdì sarà solo singolo! Abbiamo completato tutta la serie di Quiquo Qua Gold! Quiquo! Vienite qua! Subito! Allora! Abbiamo trovato... Qua... Con... Il pallone da rally! Nella seconda scita! Non perdere le altre scite! Che sono tutti e due già in edicola! Con... Qui... Con il pallone... Da calcio! E qua con lo skateboard! Che sono già... In edicola! Bene! Bene! Ares Bertagni! Fai colazione! Ehhh! Ehhh! Guarda! Guarda! È la prima volta che Ares Bertagni non sono morti! Grazie! Sì! Sì! Esatto! Siamo nuovi della Topolino Academy Comics! Grazie a 60 Panini! Ciao! Maledizione! Ares Bertagni! Perché non ci ha messo la fine? L'ho dovuto farlo perché sì! Vai! Oh! Allora! Topolino 3413 con la bella copertina! Allora! Una bella copertina! Allora! Disegni di Francesco Di Polito e colori di... Eccan! Oh vabbè! Non ci sono io! Andrea Cagol! Andrea Cagol! Andrea Cagol! Ah 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 ah! Oh! Ciao! Grazie! Sono tornato! Dov'è Andrea Fecero? Andrea Fecero non c'è! Eh! Hai a piangere! Ci sei tu! Oh! Finalmente! Ci sono io! Io ho colorato questa storia! Grazie Francesco Di Polito e Andrea Cagol! Sono! E' una bellissima copertina! Dove c'è questa paperina che non so il nome e la scopriò? Il suo nome! Qui! Che bello! Sembra! In modo divertente! Qua e qua! Che stanno giocando con le cuffie! Bello! Bellissimo! Bellissimo! Che sta giocando nel gioco di Zio Paperone! È contro RockerDuck che deve sfidare col D! Non sono stato io! Giuro! Non sono stato io! È stato la Panini! Ok? Sì Andrea Cagol lo so! Non sei stato tu! E c'è Zio Paperone che sta scontrando contro RockerDuck! Cion! 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 Ci vediamo! Le statuette di Quico! Va bene! Adesso vediamo la copertina! Guarda che bella! È una delle belle copertine di sempre come quella copertina! Beh quella di Gastone! Allora! C'è la pubblicità di Finalmente è tornato all'Armanacco di Topolino! Avventure da tutto il mondo! L'Armanacco di Topolino! Storie inedite e imprevivi per le vintage, risate e divertimento! Bello! Ogni due mesi in edicola fumetteria e panini di Puttoit al posto di Topolino Junior! Laura è potentissima! Sì! Troppo ci sei tu! Ciao Andrea Cagol! Oh ciao! Allora! E poi c'è... Una settimana! La settimana di Silvia Zinche! Con... Che aria tira? Ritona a Paperopoli! Sio Paperino! C'è un mondo intero da... Esplorare! Lavori tu! Te ne stai qui sul divano? E che... Che che... Solo un tempo per il pericolo tecnologico! Bastate per quelle quattro per il pericolo! Esplorare! 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 Le avventure in costume di Paperino e Zio Paperone nella Toscana! Le avventure in costume di Paperino e Zio Paperone nella Toscana! Leggi la saga completa! Il volume ti aspetta! Vuoi dire sul panino di tutti! Zio Paperone si è schifoso! Paperino è bello! Guarda che faccia speciale! Settecento anni! Dante Ligeri la morte! Bello che cazzo è! Poi abbiamo... Annes Bertagni! Fai colazione! Nananana! E Andrea Cagol! La redazione di Andrea Cagol! Che lo saluto completamente! Che ci sono sempre! E chissà quando tornerà anche Andrea Feccero! Schissà! Chissà Andrea Cagol! Se spero di tornare anche Andrea Feccero! Così sarete insieme! Sì, sono anche amico di Francesco Di Polito! Tocca a te! Chatumar! Va bene! Qua abbiamo Storia Fumetti! E Servisti e Rubriche! Olieta Berti! Chi è Olieta Berti? Che è Olieta Berti? Mi sembra Olieta Berti! Va bene! E poi abbiamo... Area 15 la Combo Perfetta! Soggetto! Non mi importa! E sceneggiatura di Claudio Sciarlone! Che parla di Quicuo Quaggis! Quello che è! Fanno... Oh mamma mia! Dove è? Dove è finito? Questo tizio! Il cuntino nipote! Quello che è! Quicuo Quaggis! Vanno Cazzando con il Baberino! E fanno sempre queste cose! Lo stesso! Eh sì! C'è anche Zio Paperone! Battista! Dai! Dai! Controllami! Controlla! Sì! Tu! Rockerdac! C'è Zio Paperone! Bla 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 bla! Ecco Rockerdac! Oh che bello! Oh che bello! Grazie all'Esbertani di aver appreso a me! Di nulla! E ci sono anch'io! E cosa sto facendo? Chat Noir? Stai facendo? Ehi! E che è? Sto comandando! Oh! Asieme al mio fidato amico Lasschi! Che bello! Abbiamo passato le storie a 15! Ecco qua! Poi c'è la pubblicità delle statuette di Quicuo Quaggol! E poi abbiamo la pubblicità di Zio Paperone e la scoperta dei patiti! Soggetto in sceneggiatura di Vito Stabile e disegni di Alessandro Perina! Dove parla di… Oh che bello! Veniva Velo orso Il nuovo Giacomo Allora Parla di me Zio maverone Sicuramente c'è la banda bassotti Fammi vedere se c'è la banda bassotti No Non c'è la banda bassotti C'è solo me Paperino Rocker duck non c'è Visto rocker duck E appasso solo in area 15 Poi abbiamo Topolino diventa libri Pubblicità che non mi interessa E di tv niente C'è Su cartoon network c'è io sono diverso Schifo Ecco Non ci interessa Delle agenda Stupido Topolino E' vero E poi c'è anche sport O forse qualcuno ha detto Io odio voi E ha sparito Forse ho ringraziato qualcuno Ciao ragazzi E poi c'è Finchè la vacca va Lasciala andare Qua la vita a Paperopoli E' un gran ballo Corri voli in aeroplano Ma che sballo Storie di paperi Ma che bei paperi Tra te Ogni giorno c'è una nuova storia Misteriosa Paperosa Tra te Per te